L'unica cosa che condivido delle cose dette dal Ministro è che non è svilente, anzi è una grande e straordinaria attività lavorare in agricoltura, però esattamente per queste stesse parole bisognerebbe smettere di considerare il lavoro agricolo come il luogo dove ci si va a sottopagati, sfruttati sotto caporale come se non avessero professionalità, come se non avessero diritto a retribuzioni eque a trattamenti e a trattamenti donnei, allora le due cose che il Ministro ha detto non stanno insieme, non è vero che appunto ci si può alzare da un divano e andare a fare il lavoratore in agricoltura, vorrei ricordare che il lavoro agricolo è ancora quello che mantiene insieme al lavoro in edilizia il record degli infortuni mortali e degli infortuni sul lavoro, tanto per dire solo una questione di sicurezza dovrebbe imporre che siano lavoratori, lavoratrici che sono formate, che hanno gli strumenti innanzitutto della tutela di loro stesse. Quindi credo che queste siano proprio polemiche sbagliate, così come una polemica sbagliata a continuare a pensare e a colpevolizzare i percettori del reddito di cittadinanza, perché basta guardare ai dati che sono stati diffusi oggi, la crescita del Paese e i consumi che però non tornano ai livelli precedenti, questo vuol dire che la ricchezza si è concentrata e continua a concentrarsi nelle parti alte e il Paese si impoverisce e quindi credo che sia un dovere quello invece di sostenere chi è in povertà e ovviamente anche costruendo tutte le forme di inclusione, tra queste c'è il lavoro ma c'è l'istruzione della quota di famiglie che sono in povertà assoluta, un milione e quattrocentomila sono minori, quindi c'è innanzitutto un problema di inclusione nei percorsi di istruzione, nei percorsi scolastici, quindi mi pare che sarebbe ora di smettere di fare propaganda, a me è passato un po' di tempo. Ecco no, ma a proposito dei progetti di inclusione...